Conoscevano bene il sito, nella notte i loro movimenti erano precisi e silenziosi, sapevano dove scavare e cosa cercare. Questa volta però la banda di Tombaroli in azione nel sito archeologico di Monte Adranone a Sambuca di Sicilia è stata sorpresa dai carabinieri della locale stazione che a fronte dei tanti furti commessi nella zona avevano predisposto un servizio di appostamento. Con l'accusa di tentato furto di materiale archeologico e danneggiamento del sito sono stati arrestati sei catanesi residenti a Paternò. Si tratta di Salvatore Di Stefano di 55 anni, Vincenzo Longo di 45 anni, Vincenzo Antonino Sinatra di 43 anni, Salvatore Anicito di 40 anni e di Vito Stancanelli e Filippo Germana di 43 anni. I militari li hanno sorpresi mentre attrezzati di pale, picconi e torce erano intenti a scavare e raccogliere vari reperti. Il territorio lo conoscevano bene e probabilmente non era la prima volta che visitavano il sito di Monte Adranone. Tre di loro hanno precedenti per reati contro il patrimonio e due in modo specifico per beni culturali appartenenti allo Stato. Nei prossimi giorni il GIP del Tribunale di Sciacca deciderà in merito alla relativa convalida degli arresti. Il depauperamento continuo dei siti archeologici in Sicilia, terra ricca di storia e cultura, rappresenta una condotta altamente lesiva non solo al patrimonio dello Stato ma alla stessa identità di un popolo. Eppure è quel che succede, soprattutto nei siti dove non vi sono sistemi di sorveglianza. Il Monte Adranone, ricco di reperti risalenti al IV secolo a.C. negli ultimi anni, è diventato non solo meta di turisti ma purtroppo anche di ladri che nottetempo si impossessano di vari reperti, tra cui monili, vasi e monete. L'attività dei carabinieri della stazione di Sambuca è scaturita proprio dalle numerose denunce presentate dai responsabili del sito archeologico e non solo relativa ai furti veri e propri. Spesso si è assistito anche a scavi indiscriminati, saccheggi e danneggiamenti, quando ad agire possibilmente non sono esperti tombaroli che sanno dove e cosa cercare ma anche a chi vendere. Quello del commercio di reperti archeologici è infatti un fiorente mercato destinato soprattutto ai collezionisti d'Oltralpe.